una buona serata a tutti voi grazie per essere come ogni sera in nostra compagnia cari amici cari amiche di angoli vi ricordo prima di iniziare questo nostro appuntamento come restare sempre in contatto con la nostra redazione è molto semplice basta scrivere al nostro indirizzo di posta angoli chiocciola espansione tv punto it vi presento l'ospite che è qui questa sera nei nostri studi e ringrazio per aver accettato il mio invito andrea carta psicologo psicoterapeuta e ipnotista andrea innanzitutto grazie davvero per essere qui con noi grazie a voi un piacere e grazie per insomma aver deciso di trattare qui ad angoli questo argomento che trovo davvero molto interessante e che immagino sia come dire interessato da molte sfaccettature molti modi di interpretare l'ipnosi una differenza probabilmente tra il concetto di vecchia ipnosi e quello invece di nuova generazione se così possiamo chiamare ma lascia a te la parola che sei l'esperto quindi di cosa si tratta certamente questa è una prima distinzione che possiamo fare noi tutti abbiamo in mente di solito quando vediamo nei film nelle trasmissioni televisive un'ipnosi in cui magari c'è una persona che nello semi oscurità viene ipnotizzata con un pendolino o con una persona magari che dalle fattezze un po scure che cerca di questa cinematografia si esatto ed è stata per certi versi anche un'ipnosi che è durata per parecchi secoli la storia dell'ipnosi in realtà è affascinante perché è vecchia quanto l'uomo sappiamo delle tribù che ballavano intorno al fuoco quindi col fuoco con i tamburelli con suono ritmo educato dei tamburelli producendo e cercando un contatto con la divinità quindi di fatto uno stato di alienazione uno stato comunque di elevazione a un livello diverso lo è stato per parecchio tempo ed è proprio questo che ha frenato l'ipnosi nell'utilizzo medico nell'utilizzo di psicoterapia sicuramente è stato un passo importante negli anni dell'ottocento nella fine dell'ottocento il medico famosissimo Charcot che è stato tra le altre cose anche maestro di Freud nel ripercorrere in chiave terapeutica era un neurologo l'utilizzo dell'ipnosi però sappiamo che anche nel recente passato primi del novecento con l'introduzione della psicoanalisi freudiana l'ipnosi ha subito l'ennesimo messa da parte perché Freud la sperimentò non la trovò utile e l'abbandonò per cui il paradigma psicoanalitico coprì ancora una volta l'ipnosi e di fatto la ritroviamo a partire dal metà degli anni 50 del novecento con lo studio di Milton Erickson che era uno psicoatratra americano che rivede tutta l'ipnosi e l'ipnosi medica per come la conosciamo adesso quindi è questo il punto di rottura di fatto esattamente un altro punto di rottura che dobbiamo assolutamente per impostare bene il nostro discorso è sicuramente quello che intendiamo per ipnosi e quello che intendiamo per psicoterapia ipnotica l'ipnosi in se stesso viene utilizzata ne abbiamo sentito possiamo trovare anche su internet dei filmati viene utilizzata anche oggi ad esempio nelle sale operatorie laddove ad esempio ci sono dei problemi per esempio per pratiche odontoriatriche dove per esempio non si può usare l'anestesia o il paziente ha paura di utilizzare l'anestesia per via di aghi o per controindicazioni e quindi di fatto ha un'efficacia assolutamente sì ed è stata dimostrata in tantissimi studi scientifici anche giornali, journal molto importanti hanno pubblicato sull'ipnosi ma dobbiamo distinguerla comunque dalla psicoterapia ipnotica se è una psicoterapia è qualcosa che viene utilizzata proprio per le sue qualità per trattare i disturbi, le difficoltà che hanno a che fare con la sfera psichica e qui un altro punto di rottura perché l'ipnosi dobbiamo immaginarcela un po' come una barca noi abbiamo questa barca, la mettiamo nel mare e abbiamo l'ipnosi, la barca ipnosi ma poi dove la mandiamo? e allora dobbiamo uscire ancora da quel utilizzo magari un po' teatrale dell'ipnosi che è ad esempio fare la scimmia molto spesso i miei pazienti mi dicono dottore ma uscirò da qui facendo la scimmia no assolutamente, chiaramente è un'ipnosi medica e l'utilizzo invece della psicoterapia che è una pratica medica è una pratica di utilizzo psicoterapico quindi in ambito psichiatrico che serve per aiutare le persone ad uscire dalle proprie difficoltà in questi casi è sempre applicabile per, in questo senso, per risolvere più casi appunto difficoltosi questa è la prima domanda e la seconda se tutti coloro che si trovano in queste situazioni possono essere sottoposti all'ipnosi? cogli le domande che mi vengono fatte di solito all'inizio quando i pazienti si presentano nel mio studio allora esistono due tipi di ipnosi sotto forma di psicoterapia che vengono definite come direttiva e non direttiva se ce le applichiamo sull'ipnosi direttiva è un'ipnosi che è più legata al sintomo facciamo degli esempi ad esempio smettere di fumare prendiamo che un paziente domani venga da me e mi dica dottore voglio smettere di fumare allora io posso aiutarlo a smettere di fumare di fatto abolendo in ipnosi con quello che viene di solito si vede anche nei telefilm quando te lo dirò io oppure tornando a casa mettendo la sigaretta in bocca scoprirai che non ti piace più fumare perché sentirai odori, profumi, sapori faccio però una pratica molto sbagliata da un punto di vista di teoria della psicoterapia ipnotica perché vado a curare il sintomo ma non la causa che poi l'aspetto insomma che è l'aspetto importante io smetterai, posso anche smettere mi è capitato di fumare ma in realtà poi ad avere altri comportamenti per gestire la mia ansia bere, giocare, prendere la mia macchina e lanciarmi a folle velocità questo tipo di ipnosi alcune ricerche non sono confermate perché è molto difficile fare ricerche in ipnosi ora le neuroscienze ci stanno dando una grossa mano perché ci permettono con nuovi strumenti di vedere come funziona il cervello nel momento dell'ipnosi funziona circa in un terzo delle persone il 33% quindi in questo caso avete anche una lente di ingrandimento uno specchio insomma immediato scientifico esatto, quello che non avevano all'inizio evidente del novecento ovviamente se invece parliamo della psicoterapia ipnotica ericksoniana ecco, allora tutte le persone sono passatemi il termine, ipnotizzabili ma dobbiamo intendere che cosa intendiamo per ipnosi intendiamo uno stato in questo senso in cui le persone scelgono volontariamente e sottolineo questo volontariamente di modificare e non cambiare il proprio assetto mentale ma di modificare in quel momento lì come nel mio studio il proprio stato mentale quindi è volontaria la cosa quindi è una scelta cosciente esattamente non posso scegliere cioè io non posso chiedere al mio paziente se non si fida di me il concetto fondamentale è proprio quello di rapporto cioè che si fidi di quello che io sto facendo con lui e allora se la persona si fida naturalmente è più capace è più invogliata è motivata ad entrare in quello stato modificato che non viene più indotto con i pendolini con i tocchi con le spirali ma attraverso una discussione come quella che stiamo facendo io e te semplicemente con una modalità comunicativa che va a colpire che va a trovare che va a sostenere l'inconscio che è un po' diverso da quello freudiano perché per noi l'inconscio è la sede delle risorse della persona cioè le persone che hanno vissuto anche gravissimi traumi hanno comunque imparato questo ce lo dice anche la letteratura non lo diciamo semplicemente noi rexoniani ma proprio perché hanno vissuto delle esperienze negative hanno imparato qualcosa a loro spese l'hanno pagato anche tanto hanno capito come uscire da un lutto hanno capito come farsi forza in un momento di difficoltà tutto questo viene registrato nel nostro inconscio nel momento in cui l'ipnosi aiuta ad abbassare l'aspetto più razionale che è quello che ci tiene ancorato al qui ed ora ecco che allora abbiamo possibilità di ristrutturarci internamente noi quindi non si parla in ipnosi ecco quindi Andrea mi viene subito una prima considerazione che in qualche modo tu hai già evidenziato il fatto di fidarsi ovvero di affidarsi al professionista che abbiamo di fronte sicuramente è la prima porta da aprire evidentemente altrimenti ma questo però è un principio generale della psicoterapia to cure se la persona che vuole affrontare una difficoltà o un problema non si fida della persona che ha davanti del terapeuta che ha davanti difficilmente si può fare qualcosa e ancora di più se io chiedo alla persona che ho di fronte di addormentarsi perché di questo stiamo parlando di un addormentamento che è un po' diverso dall'addormentamento del sonno REM però di un addormentamento ora è evidente che se io chiedo a una persona di addormentarsi e questa persona non si fida assolutamente di me farà di tutto per opporsi a questa cosa certamente ora Andrea per i pochi minuti ovviamente mi rendo conto che l'argomento è ampio e interessante però con il poco tempo che abbiamo a disposizione di fatto visto che ci hai parlato comunque del nostro inconscio delle informazioni che noi abbiamo di quanto sia possibile interagire ecco in quanto tempo si riesce ad aprire un varco nelle esperienze negative perché poi quelle sono e a smuoverle non dico a raggiungere un risultato positivo però iniziare a lavorarci beh la psicoterapia ipnotica è di per sé una psicoterapia breve quindi tendenzialmente potremmo dire sei mesi in realtà quello che sto affermando non è sostenuto dalle ricerche perché sappiamo bene che ogni intervento deve essere fatto però deve essere tarato sulla persona c'è anche da dire che Milton Erikson io non sono ai suoi livelli ma certamente lui è un grande grande dell'ipnosi passava curava le persone aiutava le persone anche solo in una seduta fino quindi insomma questo davvero ci lascia senza parole però capacità particolari probabilmente situazioni particolari ma Andrea a proposito siamo quasi in chiusura di chiacchierata a proposito di situazioni particolari non solo le problematiche mentali esistenziali insomma psicologiche delle quali in qualche maniera abbiamo parlato sino ad ora ma anche preparazione record questo insomma mi piace anche se l'abbiamo lasciato un po' in chiusura e abbiamo un minuto per parlarne però come probabilmente anche questa possibilità di agire sulle nostre capacità sulle nostre forze assolutamente sì sulle nostre risorse uno su tutti siamo a Como quindi non possiamo non nominare il record di Danilo Bernasconi il record di permanenza sott'acqua di più di due giorni ho preparato Danilo e Danilo mi ha offerto la possibilità di prepararlo cosa di cui sono estremamente grato con lui abbiamo fatto immaginate una persona che si deve immergere nel lago di Como per più di due giorni passando notti e giorni interi sott'acqua senza poter avere di fatto la possibilità di parlare con l'esterno alienandosi in un ambiente che non è umano deve trovare dentro di sé delle risorse ulteriori nei momenti di difficoltà momenti che ci sono stati ce ne sono stati parecchi che ha affrontato benissimo ma proprio perché nei sei mesi precedenti abbiamo fatto tutto un lavoro di recupero delle sue risorse e facendoli immaginare perché l'ipnosi è anche questo che è molto importante cioè la capacità di unire un aspetto mentale a un aspetto fisico corporeo molto forte e quindi facendogli immaginare come si poteva lui era già un esperto sub e quindi sapeva benissimo come era l'acqua come era il lago però facendoglielo immaginare si è trovato più preparato in ipnosi ovviamente si è trovato più preparato poi nel momento in cui è successo o ha dovuto far fronte a queste difficoltà quindi Andrea davvero per chiudere abbiamo dieci secondi come messaggio insomma conclusivo da passare a chi ci sta ascoltando è vero che noi dentro di noi abbiamo le risorse le carte le forze chiamale come vuoi per insomma fronteggiare risolvere i problemi che ci troviamo di fronte assolutamente questo è un principio della chiave umanistica le persone hanno dentro già le proprietà di autoguarigione per uscire da qualsiasi problema l'unica cosa bisogna trovarle ritrovarle e aiutarle a espandersi ad uscire Andrea io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui e insomma torna quando vuoi perché è un argomento molto importante che può essere uno spunto di riflessione quindi grazie al dottor Andrea Carta grazie mille grazie davvero grazie a voi ma non muovetevi Angoli non ha finito di farvi compagnia torniamo tra pochissimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti